Ti piace... ti piace il pesce? Di fatto sarei vegetariana, quindi non... Certo. Quando vivo mi piace. Ti stavo per chiedere se magari ti andava una cena sul presto. Ma visto che sei... posso anche farne un'ottima versione vegetariana. È un'idea splendida. Bene, bene, è andata. D'accordo. Senti, devo portare qualcosa per caso? Ah, verdure magari? Si può fare. No 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 sì. No 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 no. Au revoir.